Salve, sono Sara De Riu, sono la responsabile della biblioteca Giulio Cesare Croce, sezione adulti di San Giovanni in Persiceto. Oggi voglio parlarvi di questo libro da me adoratissimo, un vero caposaldo della mia libreria, che consiglio e che regalo sempre molto volentieri, e A Ovest di Roma di Gianfante, un libro che consiglio a chi mi chiede di leggere un bel libro che lascia in segno, e un libro che consiglio anche a chi magari sta attraversando un momento di stanchezza con la lettura e a chi ha bisogno di rinnamorarsi ancora una volta con la lettura. Perché? Perché Gianfante è un narratore straordinario, in grado come pochi di restituire la vita così com'è, nelle sue più diverse polimorfe sfaccettature e sfumature emotive. La sua prosa è raffinatissima, ma è anche molto spontanea, naturale, non è mai affettata, non è mai ricercata, tu non vedi mai Gianfante dietro la macchina da scrivere, Gianfante è sempre lì con te che vive assieme a te le storie che racconta, e sono storie sempre molto autobiografiche e spesso molto drammatiche, storie di povertà, storie di emarginazione, storie di dipendenze dall'alcol, ma sono storie sempre narrate, anche quando sono molto drammatiche, con leggerezza, con ironia, con una partecipazione emotiva e un'emotività, un'empatia veramente irresistibili. A ovest di Roma, a ovest di Roma non è un romanzo, è la raccolta di due racconti eccezionali, secondo me due gioiellini letterari, per motivi che io reputo più adatti a questo particolare momento che stiamo vivendo, vi parlerò del primo racconto, che è una gioia, una gioia per gli occhi, una gioia per lo spirito, è una sorsata di acqua fresca di fonte. Il primo racconto è Il mio cane stupido, e allora c'è questo cane, un cane randaggio, grosso, peloso, sporchissimo, tutto arruffato, enorme, che capita per caso nella casa di questo sceneggiatore californiano, un po' in crisi lavorativa e anche personale. Questo scrittore, che poi altro non è che John Fante stesso, ha una moglie con cui sta vivendo un momento di crisi, di stanchezza amorosa, e ha questi figli che chi per un motivo, chi per l'altro, gli procurano dei gran crattacapi. Allora, l'ingresso in famiglia di questo cane scardinerà, creando una sequenza di situazioni, di aneddoti esilaranti, scardinerà uno ad uno tutte le dinamiche relazionali tra i vari componenti, e ricreerà nuovi assetti, nuovi equilibri e nuove motivazioni di stare in famiglia. Ora, leggendo questo libro e questo racconto, si ride tantissimo, ma ci si commuove anche parecchio, e quello che commuove è la capacità di John Fante di ricreare veramente il groviglio di emozioni, di sentimenti che convivono in una famiglia, e quindi abbiamo l'amore, ma anche l'odio, l'indifferenza, la vicinanza, la lontananza, le ripicche, ci sono le affinità, le non affinità tra i vari componenti della famiglia, tutte cose che ognuno di noi conosce bene, perché la vita di questa famiglia raccontata da Fante è la nostra famiglia. E in questo momento, in cui siamo anche costretti a vivere, insomma, insieme ai nostri cari, che spesso tanto cari non sono, tra le mura domestiche, ecco, leggere questo racconto è proprio un modo per conciliarci con l'idea della famiglia, con la nostra vita, e anche, soprattutto, con una certa idea di letteratura e di lettura. Una letteratura e una lettura veramente preziose, eccezionali, di rara bellezza. E quindi, a Ovest di Roma, John Fante, Fazzi Editore, buona lettura e buona vita a tutti. Grazie, ciao.